Abbiamo sempre pensato che la vita aliena provenisse dalle stelle. Ma proviene dal profondo del mare. Che diavolo succede? Il primo kaiju approdò a San Francisco. Il secondo attacco colpì Manila. E poi il terzo colpì Cabo. Così capimmo che la cosa non si sarebbe mai arrestata. Per combattere i mostri, abbiamo creato dei mostri a nostra volta. Avevamo bisogno di una nuova arma. Nacque il programma Jäger. Due piloti. Le nostre menti. I nostri ricordi. Interconnessi. L'uomo e la macchina divennero una cosa sola. Oggi, sull'orlo della speranza. Alla fine del nostro tempo. Abbiamo deciso di credere gli uni negli altri. Oggi affronteremo i mostri che sono alle nostre porte. Oggi noi cancelleremo l'apocalisse. È davvero forte. Pacific Rim.